Una vera e propria insospettabile Santa Barbara, quella che i carabinieri della compagnia di Giare hanno scoperto ieri pomeriggio in un garage anonimo di Vialigresti a riposto nel quartiere popolare di proprietà di un 72enne pensionato incensurato che è stato arrestato con l'accusa di detenzione di armi clandestine, detenzione illegale di armi comuni, detenzione illegale di munizioni da guerra e ricettazione. All'interno del garage è stata rinvenuta una quantità smisurata di armi tra fucile e pistole. L'operazione è nata da un'attività info-investigativa dei carabinieri che hanno deciso di intervenire ieri pomeriggio approfittando di un controllo delle guardie zoofile cui è raggiunta la segnalazione della presenza di un allevamento abusivo di cardellini. Durante l'ispezione, oltre alla presenza dei cardellini nascosti tra masserizi e attrezzi agricoli, come dicevamo armi e munizioni, ma anche denaro contante, oltre 11.000 euro e numerosi gioielli sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. Sono in corso infatti approfondimenti investigativi per poter meglio comprendere se la criminalità organizzata si servisse del pensionato insospettabile, persona appunto al di sopra di ogni sospetto per la sua condizione anche di incensurato, per occultare le armi e il denaro possibile e provento illecito di attività criminali.